Su queste vicende i nostri alleati sono alleati che devono essere sostanzialmente continuamente incalzati, continuamente incalzati, non possiamo fare sconti, non dobbiamo fare sconti a nessuno, perché mentre noi facciamo sconti, mentre noi guardiamo con favore questa o quell'azione, le nostre imprese chiudono, dobbiamo valutare le istituzioni dai fatti, il resto sono tutte chiacchiere, come si chiamano, si chiamano le istituzioni, le dobbiamo valorizzare sui fatti, dobbiamo chiedere i controlli, dobbiamo chiedere ai comuni di utilizzare la leva fiscale, lo possono fare, lo debbono fare, lo debbono a chi gli governa il territorio, non possono far finta di niente, non possiamo far diventare, se parlo dei castelli romani, un nuovo quartiere di Roma, questo sta accadendo, io ho uscito come se, i castelli romani stanno diventando un nuovo quartiere di Roma, perché una volta c'è l'housing sociale per cui facciamo le case per le cooperative, l'altra volta ci sono i figli che debbono comprare la casa, non è affatto vero, non è affatto vero, non è affatto vero.